Ciao Emanuele, cosa succede oggi in Parlamento? Adesso stiamo attenendo i comodi della Presidente Boldrini che deve decidere su cosa è sul da farsi. Oggi abbiamo votato alcuni emendamenti, non tantissimi, sulle riforme. Uno importante era quello dei due mandati parlamentari massimi. Che è un nostro cavallo di battaglia dall'altro. Il nostro cavallo di battaglia è il programma del Movimento 5 Stelle. Noi che siamo incoerenti, ovviamente abbiamo proposto e votato a favore. Qualcuno del PD, tre hanno votato in dissenso, ma sono... Solito coraggio da Leone. Da Leone, da Pulcinella. Leone, Leone. C'erano anche altre due cose importanti, che erano uno il conflitto di interessi. Sì, c'era un altro. E anche su quello c'è stata molta discussione, battaglia. Noi abbiamo sollecitato perché sono 30 anni, anzi 20 anni che dicono che va risolto il problema. E ovviamente hanno votato contro. In più oggi in Commissione ho chiesto che il disegno di legge sul conflitto di interessi fosse discusso in Commissione e mi è stato detto dopo le riforme. Tutto dopo le riforme, perché in realtà sono tutti bloccati sul Presidente della Repubblica. Il succo poi è quello. Non fanno nulla che dia fastidio a Berlusconi prima di esserlo giocato per il Presidente della Repubblica. Intanto notari folklore. La Lega oggi ha fatto un po' di casino perché la consulta ha bocciato la richiesta di referendum sulla abrogazione della Fornero. E noi siamo favorevolissimi sempre al fatto che i cittadini possano esprimersi con un voto tant'è che stiamo raccogliendo le firme sull'euro per il referendum. Ma la cosa patetica è stata che i deputati di Scelta Civica e anche del PD abbiano fatto un attacco al fatto non nel merito del referendum ma al fatto che la Lega avesse raccolto le firme per il referendum. Dimostrano, tanto per cambiare, che a questa classe politica e alla maggioranza del parere degli italiani non gliene frega assolutamente niente. Ora torniamo a votare. Manu, che cosa sarà di particolarmente importante? Passiamo sull'articolo 2, quello che riguarda la composizione del Parlamento dei remedi del nuovo Senato e verrà votato oggi, non credo, ormai domani l'emendamento rosato che riporta il testo che per sbaglio è passato in commissione la modifica. Quindi si cerca di ridurre al silenzio le minoranze del PD. Nel progetto pituista di questo governo. Vi salutiamo e ci vediamo domani. Emanuele Cozzolino, trovate la sua pagina Facebook. Ciao!